Come hai detto te? I tifosi perché anche domenica erano tanti a San Siro, la partita stessa col Catania ci hanno sostenuto, quindi dobbiamo cercare questa vittoria per la classifica che è troppo importante. Il mister in base anche agli avversari, in base anche un po' a come si può mettere una partita, cerca durante la settimana di cambiare il modulo perché te puoi partire con un tipo di modulo, poi se devi cercare di vincere la partita ti puoi sbilanciare, puoi giocare un po' più compatto. Quindi questi sono tutti accorgimenti che si fanno in settimana per poi alla domenica eventualmente essere pronti per un cambio di modulo, anche un cambio di giocatori. Stiamo provando varie soluzioni come poi le abbiamo provate dal primo giorno che il mister Camolese è arrivato a Torino. Infatti abbiamo giocato ogni tanto a tre dietro, abbiamo giocato a quattro, anche in mezzo al campo con due centrocampisti, con tre, due punte. Quindi queste sono tutte cose che sta pensando il mister. L'importante è che noi andiamo in campo determinati per portare a casa una vittoria. Se sicuramente giocare quando hai 37 punti o ne hai 27 le cose cambiano, questo è normale. Ma noi più che pensare a loro dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a fare una partita attenta, accorta, a non rischiare tanto e cercare in quelle poche occasioni che faremo cercare la via del gol. Ecco perché ho detto è troppo importante, quindi dobbiamo stare attenti, ci stiamo allenando bene, sappiamo anche che dobbiamo rifarci da una partita brutta di domenica scorsa. Quindi dobbiamo guardare avanti in positivo, poi sappiamo che giochiamo in casa dove avremo ancora una volta i tifosi che ci daranno una mano perché quando giochiamo in casa sono eccezionali. E basta pensare anche all'ultima partita fatta in casa col Catania che ci hanno proprio spinto alla fine per cercare questa vittoria. Loro giocano con due punte e la mezza punta, quindi cercheranno di far giocare il Torino e poi a ripartire negli spazi. Però diciamo che in casa anche l'ultima partita fatta col Catania siamo stati bravi perché abbiamo rischiato poco. Ecco, quindi dobbiamo fare una partita simile a quella ed essere bravi a capitalizzare quelle occasioni che verranno create da parte nostra per portare a casa i tre punti.